Parliamo della milza, partendo dalla splenomegalia. Allora, il polo inferiore è di grado 1 se il polo inferiore è palpabile, di grado 2 se è giunta a metà tra l'arco costale e la linea umbilicale trasversa, di grado 3 se è arrivata a livello della linea umbilicale trasversa, di grado 4 se la supera. La splenomegalia può essere infiammatoria, congestizia, infiltrativa, data iperplastica, data da cisti o neplosie. Per l'infiammatoria citiamo gli ascessi, l'endocardite batterica, la mononucleosi, la tubercolosi, la sarcoidosi. Per la congestizia parliamo di cirrosi, trombosi, stenosi, della venaporta, scompenso cardiaco. Per l'iperplastica soprattutto le anemie emolitiche, il LES, le porpore trombocitopeniche, la policitemia. Per l'infiltrativa parliamo della sindrome di Gaucher e la Niemann-Pick. Per quanto riguarda invece cisti e neoplasie, consideriamo la malattia di Hodgkin, il linfoma non Hodgkin, malattie metastatiche. Parliamo dell'ipersplenismo. Allora, la riserva splenica può ovviamente aumentare, tanto magari da sequestrare il 25% della massa eritrocitaria. Questo provoca un aumento dei processi emocateretici e chiaramente più frequentemente anche una condizione di citopenia. Il tutto può anche essere secondario a ovviamente ipertensione portale, quindi la causa più frequente di ipersplenismo è l'ipertensione portale. Dal punto di vista semiotico abbiamo dolore in iprocondrio destro, la citopenia l'abbiamo detta, la milza diventa quindi obiettivabile di sotto l'arco costale sinistro e come una tumefazione mobile con gli atti respiratori, se l'incremento è però almeno di un terzo del volume normale. Abbiamo irregolarità della superficie e aumento dell'aeriotusità. La diagnosi differenziale viene fatta con la tumefazione del lobo sinistro del fegato, con il rene sinistro, ovviamente con la flessura colica, la neoplasia gastrica e con tumefazioni della coda pancreatica. Dal punto di vista della diagnostica strumentale parliamo di ecografia, che rileva lesioni fino a un centimetro di diametro, misura l'asse longitudinale della milza, che dovrebbe essere di circa 11 centimetri massimo, splenomegalia moderata quando arriva fino a 20 centimetri, severa se arriva oltre i 20 centimetri. Si utilizza l'ecofasta nei traumi, l'attacco con mezzo di contrasto, lo sappiamo, l'arteriografia, che può essere diagnostica per un neurisma, ma anche terapeutica consentendo l'embolizzazione. Poi abbiamo il puntato splenico, che permette un esame citologico e istologico. La splenectomia può essere anche complementare ad altri interventi, soprattutto per quanto riguarda i tumori del cardias e dell'angolo colico di sinistra, o anche malattie del pancreas. Quindi colon, stomaco e pancreas, dati i rapporti ovviamente tra la milza e queste strutture, nonché i rapporti anche vascolari. Quindi, le principali indicazioni per la splenectomia quali sono? Allora, partiamo dalla torsione del peluncolo splenico, le infezioni acute e croniche spleniche, le neoplasie, neoformazioni cistiche, aneurisma dell'arteria splenica, l'infarto splenico, il resto è di interesse medico. Quindi le anemie, la trombocitopenia, l'ipersplenismo, di per sé sono cause di interesse, sono patologie di interesse medico. Quindi, per quanto riguarda l'interesse chirurgico, cominciamo con la prima, che è appunto la torsione del peluncolo splenico. Si parla di wandering spleen, quando c'è l'assenza o la lunghezza abnorme dei quattro legamenti splenici, spleno, allora, freno alienale, gastro splenico, spleno renale, spleno colico, e quindi c'è una grande mobilità. Il peduncolo si può torcere, sofferenza vascolare, addome acuto e subito splenectomia. Le infezioni acute e croniche spleniche, anche queste richiedono, sono la seconda causa per cui si richiede la splenectomia. L'ascesso si ha soprattutto a livello degli immunodepressi ed è correlato a traumi o a superinfezione. Ovviamente l'ascesso può essere solitario o multiplo e di solito quando c'è un ascesso splenico c'è uno stato settico diffuso, quindi o dai scherichia colli, stafilococco, streptococco, oppure la candida. Può anche essere dato da una disseminazione contiguità da rene, pancreas e colon. Abbiamo l'eucocitosi neutrofila, gli fai la splenectomia e ovviamente essendo un ascesso di fare l'antibiotico terapia puoi anche avere ascessi, questo ricordiamo, celocronici in malaria e tubercolosi. Il drenaggio percutaneo in caso di ascesso unico. Le neoplasie possono essere tumori metastatici, tumori benigni, tumori maligni. I metastatici è raro che si fermino alla milza. I benigni, i soliti, maligni invece sono soprattutto ovviamente l'infomatosi, l'infoma Hodgkin, non Hodgkin, la leucemia linfatica cronica, la leucemia meroide cronica, la leucemia cellule capellute, poi abbiamo anche l'angiosarcoma, ma molto raro. Neoformazioni cistiche, una l'abbiamo già vista, la forma del chinococco, le non parassitarie, sono o vere, oppure quindi con parete, pseudocisti senza parete, e sono dovuti semplicemente, sono le più frequenti, quelle non parassitari, sono dovute a collicoazione di ematomi post-traumatici, con assicuramente asintomatica, al massimo sintomi da compressione, vanno incontro a splenectomia, anche se prevale un atteggiamento conservativo di splenectomia parziale. La neurisma dell'arteria splenica, infine, è un'altra grande importante causa di splenectomia, sono tra i più frequenti, 60% degli casi viscerali, spesso al terzo di stare, oppure all'ilo, sono asintomatici, anche qui fai la splenectomia, altre ipotesi, sono l'embolizzazione, la legatura in laparo, poi c'è da dire, da parlare delle fistole arterovenose dell'arteria splenica, anche qui si fa la splenectomia, sono frequenti insieme a quelle dell'arteria epatica, al tronco, all'ilo, o dentro il parenchima, possono essere congeniti o post-traumatiche, danno per esempio anche i pretensioni portali, la splenectomia qui dice che si fa solo per le fistole eilari o intraspleniche, ma vabbè, poi c'è l'infarto splenico, che è l'ultima causa per cui si fa la splenectomia, che può essere silente oppure dare dolore in ipocondrio, comunque con un associato addome acuto. La terapia è solamente per le forme stese, ed è appunto la splenectomia. Affezioni di interesse medico sono invece le anemie emolitiche, la porpora trombocitopenica e l'ipersplenismo. Le anemie emolitiche sono appunto la sferocitosi, l'anemia da deficit enzimatico, le talassemie, l'anemia falciforme e la emolitica autoimmune, quindi falciforme, autoimmune, la talassemia, la sferocitosi, quella da deficit enzimatico, poi le porpore trombocitopeniche, che possono essere o idiopatiche, o quella porpora trombotica trombocitopenica, la PTT. Anche questa si fa la terapia di tipo medico, in questi casi. Gli ipersplenismi, chiaramente, possono essere trattati con splenectomia, che è risolutiva di neutropenia e piancitopenia, però la terapia medica di solito è più indicata, soprattutto anche per la mielofibrosi e la sindrome di Gaucher, la malattia di Gaucher.